Sarà per la Pugliano che vogliamo il terzo incomodo delle elezioni amministrative di Montecorvino Pugliano. A guidarla il candidato sindaco Francesco Cerami, che ai nostri microfoni spiega le motivazioni alla base della sua discesa in campo. Io parto con una premessa. Prima di annunciare la mia candidatura alla carica di sindaco col Movimento Civico per la Pugliano che vogliamo, ho cercato di dialogare con entrambi i due competitor che si contrappongono alla nostra lista. Purtroppo ho visionato che non c'erano possibilità di collaborazione perché la vedevamo diversamente su vari punti e soprattutto sul come impostare la campagna elettorale che nei prossimi mesi andiamo a affrontare per quanto riguarda quelle che sono le situazioni al momento del territorio di Montecorvino Pugliano. Le priorità del suo movimento? Le priorità del mio movimento, come annunciato, sono cambiamento e rinnovamento per quanto riguarda i volti dei futuri candidati consiglieri, ma soprattutto sulle argomentazioni che stileremo nel nostro programma che adesso già ha lanciato i primi 12-13 punti che già sono stati distribuiti tramite banchetti nelle piazze in queste settimane sul territorio di Montecorvino Pugliano e nelle prossime settimane organizzeremo ulteriori banchetti di dialogo con la cittadinanza. Qualora qualche cittadino vorrebbe darci qualche idea di proposta da poter inserire, benvenga, sarà presa in considerazione. Ci può dire però qualche punto che ritiene più importante? Il punto più importante credo che sia il punto 1, ovvero il contributo mensile dell'amministrazione comunale detratto dagli compensi che percepiranno il sindaco e gli assessori. Come altro punto sarà poi la vicinanza alle fasce più deboli. Infatti per le fasce deboli istituiremo i giochi di attività sportiva in maniera gratuita per chi ha il reddito basso e per chi ha le disabilità in famiglia, naturalmente con l'invio del modello ISEE e agli uffici competenti. Poi tra gli altri punti che stiamo istituendo è il recupero degli impianti sportivi del territorio che sono un'ulteriore risorsa come anche la piscina comunale che al momento per via di varie situazioni è chiusa, però sono risorse che possono dare un risalto a quelle che sono le casse pubbliche del comune di Monte Corvino Pugliano.